In questi giorni si sta parlando molto del trailer di X-Men New Mutants per la sua atmosfera horror e perché porta una piccola ondata di innovazione a quello che è il cinefumetto. Ma questo New Mutants non è il primo ad approcciarsi a questo genere filmico e visto che Halloween è vicino ho raccolto insieme alcuni cinecomics da vedere nella notte più lunga dell'anno. Il primo film di cui vi voglio parlare è il primo capitolo di una trilogia. Sto parlando di Blade, del 1998. Da casa Marvel arriva infatti un uomo mezzo vampiro che, indovinate un po', va a caccia di vampiri per le strade di New York. Wesley Snipes incarna perfettamente il personaggio di Blade e tra sangue, armi da fuoco e arti marziali siamo davanti a un film che senza particolari pretese vi divertirà per un paio d'ore. Il secondo capitolo, diretto da Guillermo del Toro, è il mio preferito dei tre. Vedrete voi se guardare tutta la trilogia o fermarvi al primo. Dal protagonista abbiamo Darkman, scritto e diretto da Sam Raimi. Il personaggio di Darkman ha visto luce proprio in questo film, ma nello stesso anno Marvel ha pubblicato tre volumi dedicati al personaggio. Darkman è uno scienziato rimasto sfigurato e ustionato a seguito di un'esplosione causata da un gruppo mafioso. Il film è davvero ben realizzato e tramite immagini e soliloqui si è trasportati energicamente dalla trama, che anche se non è particolarmente complessa riesce a mettere bene in luce non solo alla sensazione di mostruosità del protagonista, ma anche il conflitto tra bene e male che affligge il nostro eroe. Se eroe si può definire. Questo film sicuramente lo conoscete, molti lo hanno criticato, ma a me personalmente è piaciuto molto. Se ancora non lo avete visto, questo film merita la visione. Un vero e proprio viaggio all'inferno con Keanu Reeves che con asciutta eronia e dialoghi a momenti affascinanti ci mostra quasi con indifferenza la realtà nascosta della perenne lotta tra bene e male, fatta di esorcismi, demoni, inganni e redenzione, il tutto a sfondo religioso. Visto l'imminente arrivo della serie tv, mi sembrava il caso di menzionare questo film. Punisher Warzone si presenta a noi con atmosfere davvero dark, al limite con l'horror. Qui infatti l'antagonista, chiamato Jigsaw, sembra uscito da un vero e proprio incubo, uno psicopatico, orrendamente sfigurato che mette paura semplicemente a guardarlo. Il film in sé non è un gran che, ma prendendolo alla leggera ci si diverte a vedere violenza al limite dello splatter. Infine l'ultimo che voglio consigliarvi per Halloween è un film d'animazione, sto parlando di Justice League Dark, dove Batman e John Constantine indagano su un fenomeno che porta persone innocenti a compiere atti criminali giustificando le proprie azioni dicendo di averle commesse per scacciare i demoni che avevano in testa. Nel film naturalmente ci sono elementi di magia nera, esorcismo, demoni e quant'altro, quindi vale la pena guardarlo proprio da Halloween. Infine, prima di concludere, come sempre, inserisco qualche menzione speciale. La prima, che in parte avrei voluto inserire nei cinque principali, è Hellboy, un film con qualche elemento horror, con un protagonista dall'aspetto semidemoniaco, che in parte si contraddistingue dagli altri supereroi, ma che nonostante la mano di Del Toro non riesce a brillare di luce propria. E infine aggiungo il film di Swamp Thing del 1982, sul quale non spenderò alcune parole, vi lascio qui qualche immagine e vedrete voi. Quindi gente, per questo video è tutto, spero davvero di avervi proposto qualche film che non conoscevate, ditemi i vostri pareri sui vari film presentati e se ne avreste aggiunti altri alla lista, ma soprattutto sono curioso di sapere a quanti di voi piace il film di Constantine. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, unitevi al canale Telegram sul quale condivido articoli, video e news sul mondo nerd, e iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi. Io vi saluto, ciao a tutti. Ciao a tutti.